Sulla città Sulla città Sulla città Sulla città Sulla città Sulla città Iscuna Il Il piano, Miki, il piano Il piano, trasforma il piano Il piano, il piano, rischi Il piano, vai Guardare sempre il telo Il piano, il piano, rischi 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 ok, non è più facile ma che da vedere se è un momento in corso in pratica e guarda la linea sempre vai andare a avversare un po' di più di oggi e vai scape 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 non si prende la nuova scape deve fermare e si più piano più piano, andate troppo veloci rispetto a loro, voi dovessi essere a rallentatore bene, vedi che funziona di più? se loro vanno veloci voi andate piano noi andiamo veloci il contrario bene se vuoi fare questo guardiamo qui guardate che interessante il bisogno di non essere una mano perché non ho messo le pronti adesso piano piano la tirate giù come l'avete ok siete passati tutti bene bene Grazie.